Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. In primo piano la tragedia che si è consumata questa mattina intorno alle 10 e 10 al Lido di Fano dove ha perso la vita Federico Pagani, 80 anni, residente in zona stadio a San Lazzaro di Fano. L'anziano, che stava passeggiando sul molo di Ponente, è stato investito da un furgone guidato da un 45enne di origine albanese ma residente a Fano, dipendente di una ditta fornitrice di alimenti per la ristorazione. Il conducente stava raggiungendo in retromarcia il ristorante situato sul molo. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale ma dai primi accertamenti pare che una volta sentito il botto il 45enne sia tornato avanti con il mezzo investendo una seconda volta l'ottantenne finito sotto le ruote. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Oltre alla polizia locale sono intervenuti i sanitari, i carabinieri e i militari della Capitaneria di Porto i quali hanno accertato che il conducente del mezzo non era in possesso del permesso provvisorio necessario all'accesso in Porto. La banchina infatti rientra nella disciplina del regolamento sulla viabilità portuale approvato con l'ordinanza numero 11 del 2023 dalla comandante della Capitaneria di Porto. L'anziano, che era rimasto vedovo, era tra i soci fondatori dell'associazione APS Fano che ha il diritto di dare in concessione i quadri, le costruzioni in legno adiecenti al molo tipiche della tradizione marinaresca adriatica.